ciao a tutti da Gabriella Carlucci, Gigi e Andrea. Allora siamo sempre qui per ricordarvi che tutti i giovedì sera su Rai 1 alle 20.40 va in onda a Luna di Miele. Una trasmissione stupenda, divertentissima, io mi sono divertito d'amore ai giochi. Anch'io veramente. E' pipettante, posso dire? La trasmissione è pipettante. Giovedì sera su Rai 1 alle 20.40, lo titolo anche a voi? Sì, tutti i giovedì sera a 20.40 Rai 1 all'una di Miele. Stop, finito l'ottore. Allora in ultimo si è finito l'ottore. Allora in ultimo si è finito l'ottore. No, l'olandese. Chi è?